Poi sulla sinistra, palla messa in mezzo e c'è il gol del pareggio trovato dalla selezione romana grazie forse al tiro di Remetti, tant'è che 1-1 al quinto minuto di gioco Rolly intercetta, la palla messa in mezzo e Remetti trova il gol che vale il 2-1 al quindicesimo minuto di primo tempo 2-1 per la selezione romana può salire, flagga verso Morelli che di prima cerca il compagno e il gol del 5-1 all'ottavo minuto di gioco per Remetti, 5-1